Padre onnipotente e magnanimo, è da un po' di tempo che ti ripeto le stesse preghiere nella speranza che tu mi renda di bell'aspetto quando sarò grande. Beh, sabato compiù 16 anni e ora so che quello era soltanto un capriccio infantile e non una preghiera vera e propria, e allora mi scuso. Sembra proprio che il mio destino sia di sposarmi con le avventure. Mi aspetto che approvi perché me ne hai fatte passare così tante che ormai hanno iniziato a piacermi. Sta pur certo che questa non è una capitolazione, perché non sono una bellezza ideale per molti spasimanti, anzi neanche uno. Ma piuttosto perché con la maturità sono arrivata alla lieta opinione evoluzionaria che non sono come gli altri, e lo accetto. Però mi chiedo a chi io assomigli. Se i miei genitori fossero unici come me nell'aspetto e nel carattere, a dispetto del fatto che si fossero trovati, mi chiedo se fossero fatti l'uno per l'altra. Penso tu lo sappia. Ti prego, fagli arrivare il mio amore. È l'unica cosa che voglio. Amen. Ciao, molte reperta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.